Chi non ha nutrito sospetti? Chi non ha dubitato del suo miglior amico? Chi non si è visto tradito e denunciato durante l'infanzia? Già a scuola ci si scontra in ciò che più tardi si verificherà nel bramato mondo. Gli impedimenti e le slealtà, il silenzio e l'inganno. L'imboscata. C'è anche qualche compagno che dice sono stato io la prima forma di riconoscimento delle responsabilità. La prima volta nella vita in cui uno si vede obbligato a dire o ascolta I have done to did e poi a mano a mano che si cresce e il mondo è già meno mondo perché non è fuori dalla nostra portata tutto ciò si dirà e si ascolterà sempre meno. Si abbandona il linguaggio della fanciullezza. Lo si mette da parte perché troppo schematico e semplice. Ma quelle frasi scarne e assurde che allora si consideravano eroiche non se ne vanno del tutto ma persistono negli sguardi, negli atteggiamenti, nei segnali, nei gesti e nei suoni, le interiezioni, l'inarticolato che pure possono e devono essere tradotte poiché sono spesso nitide e sono quelle che realmente dicono qualcosa e si riferiscono davvero ai fatti. L'odio senza impedimenti e l'amore senza confusione, senza la sofferenza di un forse e di un chissà, senza l'involucro delle parole che non servono tanto a far riconoscere o a riferire o a comunicare, quanto a confondere, a nascondere e a sollevare dalla responsabilità. L'aspetto verbale livella le cose che sono individuabili come atti e non si possono mescolare. Baciare o ammazzare qualcuno forse sono azioni opposte, ma raccontare il bacio e raccontare la morte, assimila e associa all'istante entrambe le azioni, stabilisce un'analogia e crea un simbolo. Nella vita adulta dominata dalle parole non si sente il sì e il no, nessuno dice sono stato io o non sono stato io, ma tutto ciò si continua a vedere, quasi sempre non sono stato io. Gli eroismi passano a ingrossare la lista degli errori. Chi non ha sospettato? E con i sospetti si possono adottare due misure, entrambe inutili, chiedere e tacere. Se si chiede e si costringe, forse si arriverà a sentire non sono stato io e ci si dovrà concentrare su ciò che non dice, sul tono, sugli occhi schivi, sulla vibrazione della voce, sulla sorpresa e l'indignazione forse simulate. E non si potrà chiedere un'altra volta. Se si tace, la domanda sarà sempre vergine e sempre disponibile, sebbene a volte il tempo la renda incongruente, quasi ineffabile, letteralmente estemporanea, come se tutto finisse per cadere in prescrizione e per far sorridere quando appartiene al tempo trascorso. L'intero passato appare beniale e ingenuo. Se si tace, bisogna dissipare il sospetto e abolire la domanda, o piuttosto alimentare il primo e preparare la seconda con estrema attenzione. Ciò che diventa impossibile è confermare il sospetto. Nessuno sa niente di ciò a cui non ha assistito. Non si può neppure dar credito alle confessioni. A scuola si dice sono stato io quando non si è stati. La gente mente proprio come muore. Sembra incredibile, ma niente si può mai sapere. O almeno credo. Per questo a volte è meglio non conoscere nemmeno il principio, né sentire le voci che raccontano, davanti alle quali si è tanto inermi. Quelle voci narranti che tutti possediamo e che rimandano al passato remoto, recente, e scoprono segreti che non importano più, ma tuttavia influiscono sulla vita e sugli anni a venire. Sulla nostra conoscenza del mondo e delle persone. Non ci si può fidare di nessuno dopo averlo ascoltato. Tutto è possibile. L'orrore più grande è la viltà maggiore nelle persone che conosciamo, come noi stessi. E tutti sono votati a raccontare senza sosta o a occultare senza sosta mentre raccontano. Non si racconta né si occulta ciò che non si dice. Ma quello, quello che si tazza, si trasforma in segreto e a volte arriva il giorno in cui si finisce per raccontarlo. Io non dissi niente, non chiesi e non ho ancora chiesto. E più passa il tempo più sarà improbabile o difficile che lo faccia. Si lascia passare un giorno senza parlare e due o una settimana e poi i mesi si accumulano insensibilmente e la manifestazione del sospetto si posticipa se questo non cresce. Forse si aspetta che si trasformi in passato, in qualcosa di veniale o ingenuo che magari ci farà sorridere.